Credo che il Catanzaro si presenti da sé per la forza, per la qualità che sta esprimendo, per i risultati che sta ottenendo e quindi è una partita difficile. Si teme la qualità e le idee di questa squadra e soprattutto anche l'inerzia positiva che sta avendo sul campionato e la possibilità di vedere le retrovie di chi li sta davanti. Questo probabilmente gli darà ancora più forza, più consapevolezza e sarà ancora un esame duro da superare ma ci proveremo perché stiamo studiando per far sì che si possa superare brillantemente uno degli esami più complicati della stagione. La continuità in questo campionato paga sempre, smuovere la classifica, muovere la classifica ha sempre un suo valore, quando è un susseguirsi eventuali di frasi fatte, quando non si può vincere è meglio non perdere. Però la verità è che dare una certa continuità di risultati ti può far stare tranquillo, guadagnare posizioni e soprattutto consolidare la posizione perché in questo momento il primo degli obiettivi è quello di arrivare il prima possibile a guadagnarci i playoff.